Ciao a tutti! Non teme il giudizio? O è bugiardo o è sociopatico? In questo video voglio farti capire come il timore del giudizio sia un qualcosa di innato, che dobbiamo però imparare a gestire per non lasciarci condizionare dal timore del giudizio degli altri. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti chiedo di... ti chiedo che cosa? Ti chiedo di iscriverti al canale se ti fa piacere, perché questo è un canale in cui ho investito molte energie e credo che possa esserti utile. In più, attiva la campanellina. Allora, spesso ci sono persone che dicono io non temo il giudizio di nessuno, me ne frego, qualunque persona mi giudica non mi interessa. Allora, chi afferma questo o è bugiardo, cioè sa che dentro di sé in realtà il giudizio lo teme come, oppure è sociopatico, cioè un serial killer che non è interessato a, diciamo, a nessun giudizio, quindi o è serial killer o è un sociopatico, un folle, il folle completo, non teme il giudizio di nessuno, oppure è un bugiardo. Perché il giudizio, diciamo, il timore del giudizio è una spinta evoluzionistica che noi abbiamo. Cioè l'essere umano è un essere che vive in gruppo, che vive in branco. Ed è inevitabile che nel branco, vivere in branco, ci siano, ci siano delle regole, ci siano, come dire, l'evoluzione spinge quando una persona segue comunque delle regole in qualche modo condivise, le regole del branco, le regole del gruppo, e quindi la spinta evolutiva è quella a cercare conferme all'esterno, cercare conferme all'interno del gruppo, all'interno, in qualunque situazione. Quindi, ripeto, non il giudizio in senso assoluto, ma il giudizio delle persone importanti, delle persone care della tua vita, ma ad esempio pensate agli adolescenti con il giudizio del gruppo dei pari. Beh, non è che è proprio indifferente non temere il giudizio. Quindi, però sappiamo che temere il giudizio è qualcosa di negativo. Quindi dobbiamo cercare di glissare questa cosa. Non so se mi sono spiegato. Vivere temendo il giudizio degli altri è qualcosa di negativo, quindi dobbiamo imparare a fottercene. Ma non possiamo resistere a dire io non temo il giudizio di nessuno, perché non è vero. A meno che non sei un serial killer sociopatico, una persona che è un narcisista, una persona completamente sconnessa da tutti gli altri, completamente imploso su te stesso, su te stessa, allora non puoi temere il giudizio degli altri. Però noi abbiamo la possibilità di bypassare questo timore del giudizio degli altri, perché di fatto il timore del giudizio degli altri è negativo, è estremamente negativo. E quindi noi dobbiamo imparare a glissare questa situazione. Come facciamo a glissare? Allora, abbiamo due piani, piano A e piano B. Il piano A è quello di cercare di resistere. No, io non voglio temere il giudizio degli altri, me ne frego, questo mi ha giudicato. Ma dentro di noi qualcosa ti rode, perché se qualcuno ti giudica, ripeto, se poi ti giudica il figlio del portiere di cui te ne freghi assai, non ha nessun senso fare sto timore... non ha nessun senso, diciamo, che ci sia sto timore del giudizio, non ha veramente nessun senso. Se invece tu vuoi, diciamo così, agire diversamente, quindi dimostrare che in realtà... cioè bypassare questo timore del giudizio, per evitare di essere condizionato dagli altri, c'è un piano B, che è quello di cambiare le regole del gioco. Quindi devi prendere, tra virgolette, in giro questa tua parte che è vincolata dal giudizio. Quindi io non resisto a temere il giudizio degli altri. Però mi devo instaurare alcune credenze interne, per cui devi tenere presente questo. A chi vado a sottoporre, diciamo così, le cose che faccio? Beh, devo tenere presente questo, che ci sarà sempre qualcuno a cui piacerò, anche se nelle scelte più strane. Io devo cercarmi quelle persone. Cioè, devo sottoporre... Dice, mi piace vincere facile, mi sottopongo al giudizio delle persone che sono già d'accordo con me e me ne fotto degli altri. Anche se sono persone importanti, mia madre, penserò, beh, non si può piacere a tutti. In questo caso ci sono persone che piacciono a me. Beh, vedete che, diciamo, qualunque cosa che noi crediamo, troviamo qualcuno che è allineato con noi. Beh, credi nella terra piatta e vai a dire in giro che con te la terra è piatta. A parte che ci sono quelli, vabbè, i professionisti del coso, che vanno a, come dire, a fare servizi idioti, diciamo così, no? Per cercare di prendere in giro questi. Perché però, diciamo, ognuno, nella piena libertà, tu avrà altre persone che credono nella terra piatta e tu te ne freghi di quelli che ti dicono la terra non è piatta. Per fare un esempio sulla terra piatta. Un esempio, io personalmente non credo nella terra piatta. Poi, se no, altrimenti fanno un altro servizio dove dicono che io credo nella terra piatta. Non è che si tratta di credenza. Ho analizzato anche questo concetto di terra piatta e mi sembra veramente completamente poco, diciamo così, poco strutturato. Però il rispetto a queste persone, ovviamente, che ci credono e il rispetto molto meno a quelli che fanno servizi per prendere in giro queste cose qua. Li trovo veramente inutili e inconsistenti. Comunque, questo è il primo punto fondamentale. Quindi devo rivolgermi a persone che hanno il mio stesso criterio. Poi, un'altra cosa che devo fare, non devo rispettare eccessivamente nessuno. Cioè, non devo eleggere divinità, qualcuna divinità. Beh, se una persona mi spone un giudizio critico negativo anziché vederlo come un qualcosa, devo dire beh, questa è una persona come un'altra, ha espresso il suo giudizio. Cerchiamo di analizzare, cerchiamo di capire. Cerco di analizzare, diciamo così, perché magari lo vede diversamente, perché non lo vede diversamente, perché ha espresso un giudizio negativo. Ma non devo rispettare eccessivamente, come dirà, è la fonte di tutte le conoscenze. Insomma, come terzo punto, che poi è la cosa fondamentale, devo cambiare un po' le regole d'ingaggio, se vogliamo, del rapporto con gli altri. Cioè, mi devo rapportare pensando che le altre persone possono giudicarmi negativamente, può farmi male il timore del giudizio, ma ce ne saranno altre tante che mi giudicheranno positivamente. E quindi, alla fine, che devo fare? Devo promuovere tutte le persone con le quali mi dà piacere interagire e lasciare al loro destino, diciamo così, le persone con le quali non mi fa piacere interagire. Ma non devo evitare, cioè, come dire, non devo... Ci sono delle regole che, se ci mettiamo in testa, sono estremamente negative. Devo trasformarle in qualcos'altro. Devo cambiare le regole del gioco. Ad esempio, una persona potrebbe... Il timore del giudizio è spesso collegato al timore del rifiuto, no? Ma anziché pensare, ah, non devo essere rifiutato da tutti i costi e quindi se mi rifiutano rodo. No, trovo semplicemente persone che mi amano. Cioè, il mondo è pieno di persone che possono amarmi e a quelle devo rivolgermi. Devo rivolgermi al pubblico che è nel mio target. Devo chiedermi con chi ho a che fare, chi sono le persone con le quali interagisco. Devo chiedermelo e devo scegliermi un target di persone che in qualche modo è allineato o può allinearsi con me. Devo alimentarmi della loro energia. E quelli che la pensano diversamente, ragazzi. Cioè, c'è spazio per tutti, arrivederci e grazie. E quindi vado a confortarmi del giudizio positivo di persone che hanno una visione simile a me. E questo lo troverete. Non c'è nessuno che ti sarà completamente ostile. E devi accettare il fatto che invece sono persone che anche possono essere persone a teccare che magari ti giudicano negativamente. È un problema loro, fondamentalmente, no? Non bisogna neanche voler avere ragione a tutti i costi. Uno può anche sbagliare, può anche avere torto, per carità. L'importante è che da queste interazioni io sviluppo i miei talenti. Cerco di sfruttare il massimo e il meglio di quello che mi capita. E poi, ripeto, non è che bisogna avere ragione per forza a tutti i costi. Si dice la ragione, si dà gli stupidi. E quindi che se la tengano pure la ragione. Io però cerco di sviluppare comunque i miei talenti. E non devo neanche avere paura di sbagliare, no? Paura perché, come dire, io voglio fare delle esperienze. Il mio obiettivo è fare delle esperienze. Non è che mi interessa sbagliare o non sbagliare. Posso sbagliare tranquillamente, ma non deve essere l'obiettivo fare necessariamente le cose giuste. Tutti noi abbiamo possibilità di sbagliare. L'unica cosa è che facciamo esperienze e queste esperienze ci portano a crescere come persone. Quindi dobbiamo entrare in un'ottica un po' più centrata su noi stessi, fondamentalmente. Che non vuol dire non temere giudizio agli altri, ma vuol dire ristrutturare i giudizio agli altri. Però ogni persona che mi giudica male ce ne sarà un'altra che mi giudicherà bene. Io mi rivolgerò a quella che mi giudica bene. Quella che mi giudica male se la prenda in quel posto. E questo è. Però non è che non possiamo non temere, dobbiamo ristrutturare il nostro modo di vedere le cose, fondamentalmente. Questo è l'unico modo per venirne fuori. Lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi. Iscriviti al canale. Ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo nuovo canale. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!